Voglio ringraziare questi bravi ragazzi che spendono il suo tempo libero seguendo chi ne ha bisogno, chi è nato più sfortunato di noi. Noi li abbiamo accettati più che volentieri perché lo facciamo sempre, da sempre, lo abbiamo fatto. Noi siamo felicissimi di ospitarvi ancora perché veramente ve lo meritate. Noi siamo felicissimi di ospitarvi ancora perché lo facciamo sempre. Noi siamo felicissimi di ospitarvi ancora perché lo facciamo sempre. Grazie. 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 Grazie.